Iniziata la settimana che ci porterà al ballottaggio di Cortona, la partita alle unne si giocherà tra Luciano Meoni da una parte e Andrea Vignini dall'altra. Si riparte da 0 a 0, ma i dati del primo turno hanno indicato come il fattore M sia stata la vera sorpresa di questa contesa elettorale cortonese. Luciano Meoni, sindaco uscente, si presenta forte del 45,4% dei consensi ottenuti al primo turno. Andrea Vignini, candidato del centro-sinistra, si è fermato al 35,6%, dovrà recuperare una bella porzione dell'elettorato, soprattutto andare a convincere quell'area di elettori che hanno disertato il primo turno. Nella prima mandata ha votato poco meno del 70% degli elettori. Vignini confida di rigiocare la partita, rimotivando dunque la massa grigia che si è mostrata fredda la scorsa settimana. Meoni, da parte sua, viaggia con il vento in poppe, confida nella risposta dell'elettorato che lo ha premiato oltre le previsioni nella prima tornata. Decisivi saranno gli elettori di Nicola Carini, quel 13% potrebbe essere la chiave di volta per chiudere la partita del ballottaggio.